Sviluppatore di software, giovani designer, pazienti, neuroscienziati ed esperti, insieme per migliorare la vita giornaliera di chi è affetto da patologie rare. Questo è l'obiettivo dell'Hackathon or Rare Disease, l'evento che si svolta a Firenze nell'ambito del forum della sostenibilità e dell'opportunità nel settore della salute. La qualità della vita è una cosa che è alla base di tutte le associazioni delle malattie rare. L'associazione ha fatto e ha messo in pratica un'app per poter far stare più e dialogare più da vicino i pazienti e i medici. Gruppi di lavoro a confronto per sviluppare nuovi modelli, idee come quella dell'associazione impegnata contro l'angioedema ereditario, progetto in grado di fare rete e unire medici, pazienti e tecnologie per una futura lotta globale alla malattia. Abbiamo deciso di costruire un sistema informatico che sia in grado di raccogliere dei dati sanitari. Se tu vai al centro di Bari o al centro di Aosta sei trattato per l'angioedema ereditario nello stesso modo perché c'è un gruppo di lavoro che si aggiorna man mano su questa patologia. E vorremmo che fosse così in tutto il mondo, insomma. Soluzioni tecnologiche e sviluppo di app e nuove frontiere dell'assistenza per sconvolgere l'approccio giornaliero verso le necessità dei pazienti. Un futuro che non pone limiti alla sperimentazione. Le esigenze del malato raro non si limitano ai farmaci o altri ausili che di solito si giudicano importanti ma potrebbero essere molto migliorabili con una serie di applicazioni oppure di nuove tecnologie alcune delle quali abbiamo già in mente, altre che sono tutte da studiare. Quello che mi posso immaginare io penso che sia una minima parte di quello che la tecnologia oggi può fare per noi e per migliorarci veramente quella che è la nostra vita quotidiana.